Ragazzi ecco qui la nostra ultima arrivata della famiglia GSX-R, abbiamo qui davanti un esemplare meraviglioso di Suzuki GSX-R 1100 anno 1994 Moto tenuta veramente in maniera impeccabile, praticamente nuova La moto è proprio in condizioni impeccabili, a parte qualche piccolo segnetto qua e là dovuto dal tempo La moto ha soli 15.000 km, la moto è veramente spettacolare, completamente un conservato, pneumatici nuovi di pacca dove i primi chilometri li farete voi La moto è tenuta veramente bene, tutte le sue cose originali, kit attrezzi e libretto uso e manutenzione sono i suoi originali e sono presenti Trasmissione nuova, quindi pneumatici nuovi, la moto è già tutta tagliandata, pronta all'uso per voi Ogni bulloneria che nel tempo si è un attimino un pochettino rovinata è stata sostituita, quindi la moto è veramente pazzesca Ragazzi vi aspettiamo a vedere questa goduria E dimenticavo che la moto come vedete è equipaggiata con scarichi un po' più sportivi Ma non mancano gli originali ovviamente che vi verranno dati in corredo con la moto Ragazzi moto spettacolare, vi aspettiamo per una moto gloriosa degli anni 90 Ciao a tutti